come una mamma adesso finirò la mia nave e la faccio navigare ecco così, così buongiorno amichetta, che fai? ho fatto una nave e io voglio fare un aereo certo, ma lo facciamo dopo, prima lavati i denti io mi sono già lavata i denti no, prima l'aereo va bene, ti aiuterò dammi, ecco guardate, però manca qualcosa ho un'idea, addobbiamo il nostro aereo guardate qua i fiori, mi piacciono i fiori sì, sono bellissimi questi fiori guarda uno, due e tre e io adesso faccio navigare la mia nave ecco il nostro mare pronto facciamola navigare allora eccola qua la tua nave dai, naviga oh che bello io faccio volare il mio aereo dai Emily, pronti, via dove sta volando? oh così in alto oh Emily ma non ti preoccupare facciamo uno nuovo ok è tutto bagnato oh ma non ti preoccupare anche la mia nave è tutta bagnata non mi piacciono questi giocattoli di carta sì, non vanno bene i giocattoli di carta però ho un'idea sta arrivando il Natale e noi possiamo scrivere la lettera a Babbo Natale sì, mi piace quest'idea però il Babbo Natale dono i regali solo ai bambini buoni andiamo a lavarci i denti, ok? uhu, lo faccio subito ti aiuterò no era sugar mann Eccolo qua Siamo pronte Sbrigatevi ragazze Non vedo l'ora di andare a scrivere questa lettera Tieni Emily il foglio e la matita Ma io non so scrivere Che dice amichetta Ah giusto Allora che facciamo Non c'è problema ragazze Facciamo un collage Oh è un'idea stupenda Allora ci serviranno I foli colorati Le forbici I bottoni E la cola Oh quanto sono belli questi bottoni Ma perché ci servono i bottoni Per che cosa Per fare che scusa ma non vogliamo cucire Aspetta un attimo amichetta Cominciamo Tagliamo il nostro aereo con le forbici Però dovete stare molto attenti Perché vi potete fare male Per questo meglio chiedere i vostri genitori ad aiutarvi Lo incolliamo qua sul foglio azzurro Perché è azzurro come il cielo Facciamo le ali Emily aiutami per favore Tieni Oh l'aereo sta venendo molto bello Sì Importante incolare bene Ah ho capito Con i bottoni facciamo dei finestrini Brava amichetta Giusto Facciamo proprio così Per incollare i bottoni Usiamo il lastro adesivo Guardate che bello aereo Ci servirà una busta grande Eccola qua la busta Allora scriviamo A Babbo Natale Scrivi il mio nome anche Andiamo subito a mandare la nostra lettera alla posta E con voi ragazzi ci vediamo molto presto Ciao 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 e non dimenticatevi di scrivere la lettera a Babbo Natale Ciao ciao